saranno tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi questo nuovo video vi spiego come cambiare una risoluzione una risoluzione propria personalizzata per il gioco aggiungere lo stretch allungare la grafica sul gioco grazie alle nuove impostazioni la nuova interfaccia di fortnite più il pannello di controllo di nvidia quindi in questo caso per fare questa cosa la finestra deve sempre stare a finestra schermo intero basta questo è quindi in questo caso questa è la mia risoluzione 1920x1080 quindi quello che ci resta da fare è andare un attimo sul pannello di controllo di nvidia e fare alcune modifiche quindi il pannello di controllo di nvidia se non lo tieni sul tuo pc ti ho lasciato un link in descrizione per scaricare questo pannello è quello che ci resta da fare andare su crea personalizza una propria risoluzione quindi qua metteremo una risoluzione nostra tu puoi mettere quella che vuoi quella che più ti sta bene per giocare a fortnite questi sono quelle popolari e quelle per bustare anche gli fps su fortnite quindi meno è ridotta la risoluzione più fps fai quindi la risoluzione da mettere quella popolare 1656 x 1080 ed eccola qua e come frequenza di aggiornamenti io metto la mia poi dipende dal tuo monitor di quanto è quindi a me 165 e non mi resta che provare questa risoluzione quindi vedere come com'è ok è stata aggiunta qua sopra mi raccomando mettete la spunta sulla risoluzione che avete creato e poi uscirà la sua risoluzione personalizzate poi vai su impostazioni in modalità finestra deve stare a finestra a schermo intero se no non funziona quindi adesso vado a prendere la mia metto questa faccio applica ed eccola qua vado su fortnite applico così le modifiche se qua sta ancora finestra schermo intero fate un attimo applica se no facciamo che salva ecco che si è ristretta un po suo bs non è che si vede tanto bene però risoluzione 1656 x 1080 che potete anche mettere la risoluzione 1080 x 1080 e restringe allungare anche la grafica sul gioco e giocare bene se vi è stato utilissimo questo video iscriveteci al like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao